Nell'altitudine, l'ossino non è rarifatto, può darti alla testa, non si rile, però per che la nostra preparazione è stata lunga, meditata, sofferta, allora più saliremo, più porteremo i modoni, più saranno i sogni che avremo e sarà la nostra responsabilità ancora lì alla realtà, più avanzeremo e più tendremo la mano al massimo indietro e soprattutto si sappia che l'unica ragione per la quale vogliamo arrivare in venta è che sappiamo che da lì possiamo guardare più lontano, grazie! e l'altitudine, l'ossino non è rarifatto e l'altitudine, l'aiuto, maoure, molto libertà! forno Ehi, stai, grazie! Lo so, ci verranno infatti. Poi dà la testa. Più, sarò bene. E più porteremo il corpo di cui proveniremo. Più saranno i sogni che avremo e più sarà la nostra responsabilità per la realtà e la realtà. Più avanzeremo e più tenderemo la mano a chi è rimasto indietro. E soprattutto si sappia che l'unica ragione per la quale vogliamo arrivare in venta è che sappiamo che da lì possiamo guardare più lontano. Ehi, snarkola! Ehi, snarkola! Ehi, snarkola! Grazie 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 Grazie! Space Dark! Space Dark! Grazie! Grazie! Space Dark! Buonare! Lo sito è vero rifatto! Grazie! Space Dark! Putz it! La scoffita! La scoffita! La scoffita! La scoffita! Il carro di ventre! La scoffita! La scoffita! Siamo ancora! La scoffita! La scoffita! La scoffita! Puoi ero rifatto! La scoffita! Grazie a tutti.